Salve a tutti, sono il dottor De Mari, farmacista, esperto in fitoterapia. Il Natale si avvicina e con il freddo la sera è sempre bene mangiare una bella zuppa calda. Basta prendere della verdura di stagione, quella che avete nel frigorifero, aggiungere dei cereali integrali in chicchi senza glutine e la magia è servita. Vediamo adesso cosa ho preparato. E proviamo a unire tre cereali integrali senza glutine insieme, riso, grano saraceno e miglio. Versiamo tutto, via! 20 minuti e tutto sarà pronto. Eh sì, sembra buono buono.